Dovresti fare l'arco nella panca piana oppure quando fai le spinte con i manubri? Assolutamente sì, dovresti! Il motivo è molto semplice, ovvero se tu non fai l'arco, sostanzialmente quando fai questo esercizio tieni le spalle che si avvicinano troppo verso le orecchie. Invece l'obiettivo è quello di spingere le spalle verso il basso, alzare il petto e a quel punto ti ritroverai con due o tre dita che passano sotto la schiena. Ovviamente l'obiettivo non è quello di inarcare, sollevando anche i glutei, facendo cose da gara per esempio di powerlifting. Ti basta semplicemente fare questo lavoro, spingo le spalle verso il basso, scendo e risalvo. Scendo e risalvo. Spero che ti sia d'aiuto.